Nelle ultime settimane si è verificata una accelerazione nella campagna vaccinale nella nostra regione, ma il Partito Democratico continua a chiedere a gran voce alla regione un piano organizzativo che vada incontro ai bisogni della cittadinanza. La questione vera nella nostra regione è che manca la programmazione. Tanti cittadini credo si rivolgono a noi, così come anche a voi della stampa, chiedendo ma perché hanno prenotato quella persona che è più adulta di me o più anziana di me o perché io che sono un fragilissimo o i miei familiari non ancora arrivano, in realtà non c'è un vero e proprio programma. La stessa distribuzione probabilmente è stata fatta senza una corta programmazione. Quello che noi chiediamo da mesi, noi vogliamo sapere il programma vaccinale di questa regione nella fase 2. Già non c'è stata chiarezza sulla fase 1. Quanto all'approvvigionamento sappiamo che è un problema del governo nazionale e della Commissione europea, noi però facciamo il nostro. E sulla questione AstraZeneca il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci invita a non creare allarmismi ma affidarsi alla scienza. Noi dobbiamo rivolgerci all'AIFA e all'EMA, sono i clinici, gli scienziati che debbono dirci quelle che sono le efficaci e le sicurezze dei vaccini, una volta testati. Fino ad allora, come è stato sempre ricordato, tutti i vaccini attualmente inoculati sono assolutamente efficaci e anche le reazioni avverse sono limitatissime in proporzione rispetto invece agli effetti ovviamente utili e positivi della campagna di vaccinazione di massa. Affidiamoci ai clinici senza fare nessun tipo di altro allarmismo, ovviamente chiedendo però che tutte le verifiche anche rispetto a qualche reazione avversa siano compiute fino in fondo.